Ragazzi da Ratti Auto c'è veramente veramente di tutto Questa è la DS4, ecco il taglio laterale, andiamo a vederla subito Molto belli gli interni ragazzi Quindi ragazzi questa è la DS4, 1.16 cilindrata a 120 cavalli, cambio manuale diesel Vidone potete trovarla aziendale con 33.000 km E' veramente veramente fighissima, un sacco tecnologica, ci sta un botto Se volete scoprire di più cliccate il link trovato in descrizione Vi porterà al nostro sito dove potete trovare questa e più di 500 auto disponibili Chilometro zero aziendali usate, tantissimi marchi Vi aspettiamo da Ratti Auto, bella!